Una strategia condivisa che parte dal comune di Fano e abbraccia tutti i territori delle vallate del Cesano e del Metauro, un percorso da fare insieme per offrire al turista un'esperienza a 360 gradi dalla costa all'introterra. Il primo cittadino Massimo Seri e l'assessore allo sviluppo turistico Etienne Lucarelli si sono incontrati in videoconferenza con i sindaci e altri amministratori locali per condividere l'idea di un nuovo strumento web dove coinvolgere tutti i comuni interessati al progetto. Ognuno avrà la possibilità di mettere in vetrina le proprie peculiarità per offrire al turista una proposta ancora più ampia e appetibile. Chiara l'intenzione di Fano è di fare questo percorso strategico per la città per crescere a livello turistico. Siamo altrettanto consapevoli che bisogna lavorare per il territorio perché vendere tutte le peculiarità dell'intera valle del Metauro e del Cesano è la vera forza di tutto questo territorio. Per cui c'è stato questo importante incontro con i sindaci del territorio con il sindaco Massimo Seri nel quale abbiamo parlato appunto di voler realizzare un portale, iniziare con la realizzazione di un portale grazie anche a un finanziamento della Regione Marche di 30.000 euro ad un supporto che ci ha dato il consigliere Boris Rapa dove ogni comune, ogni ente, ogni produttore, ogni associazione può inserire il proprio prodotto, le proprie peculiarità in modo da realizzare un contesto dove il turista può entrare e trovare tutte quelle cose, quelle attività che in qualche modo possono essere promosse nel nostro territorio. Il turista troverà anche gli eventi, le attività culturali, le offerte delle strutture ricettive private fino ad arrivare alla prenotazione vera e propria. Lo step successivo sarà quello di collegare il portale all'app Municipium che esiste già ed è utilizzata da mille comuni italiani e da oltre 5.000 utenti. L'obiettivo sarà quello di vedere sullo smartphone con un semplice clic tutto ciò che il territorio mette a disposizione. La sensazione è che abbiamo tante cose ma un turista non sa cosa poter fare. Vogliamo includere in un unico contesto tutto quello che stiamo facendo.